...che appunto non era desiderato. Non contento di questo, il comandante della piazza forte di Portoferraio, Luca Antonio Tuffano, decide di metter fine a questo attacco con un contrattacco che fa armare una galea e carica con tutta la panteria che aveva a disposizione e fa prendere l'articolato da fronte. ...e arrivano alle palle che dà. ...tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare ...dalla mia bella al casolare... ...Romagna, Romagna mia... ...lontan da te non si può lasciar... ...faffare... ...faffare... ...arrivedo! ... 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